23 novembre 1980, una data che segnò profondamente la Basilicata, un sisma di dimensioni eccezionali sconvolse la Regione. Molti persero la vita, ma la memoria collettiva non ha dimenticato. Quest'anno la Regione, nell'ambito delle iniziative promosse per il trentennale del terremoto, ha riservato un concorso agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Basilicata dal titolo 30 anni da quei 90 secondi, il terremoto visto con gli occhi di chi non c'era, in cui si chiede ai ragazzi di raccontare in un filmato in formato digitale della durata massima di due minuti la propria percezione di quel disastroso evento. I criteri per la valutazione delle idee sono qualità, creatività ed originalità del prodotto. I studenti autori del video, che nel corso della selezione risulteranno classificati ai primi dieci posti, saranno premiati con medaglie e targhe commemorative della Regione. Le opere devono essere spedite entro il 31 ottobre prossimo. Il bando è consultabile su basilicatanet.it